allora sono qui e sono contenta sono riuscita nel mio intento bene non so cosa stanno facendo questi però io volevo almeno leggere una dead letter perché so che c'è una nuova e quindi andiamo a cercarla questa qua presidenti morti a chi può interessare più o meno sono stato contattato dai passati i presidenti degli stati uniti d'america bene appaiono come spiriti guida e mi danno la loro la loro saggezza si soprattutto alcuni immagino a john adams continua a dirmi che ho bisogno di mettere a posto l'america ma non riesco bene a capirlo si vede che non si spiega bene non lo so a me sembrava chiarissimo john adams hanno un sacco di opinioni io non sapevo niente sulla storia americana e ancora so poco però dopo aver visto 60 volte 60 volte hamilton e averlo ascoltato fino allo sfinimento certe cose che non sapevo prima adesso le so per esempio chi è john adams le persone mi dicono che lo sto immaginando ma teodore ruswell mi ha mostrato come come aggiustare la mia tagliaerba bene e non so niente sui tagliaerba pensa invece ruswell sa tutto spiegatemi un po è vedete vabbè ho grandi uomini morti che mi dicono del passato e del presente se volete usare le mie abilità per governare l'america per favore fatemelo sapere la casa bianca potrebbe potrebbe aver bisogno di me certo oddio queste date letter sono fantastiche qui cosa abbiamo al floppy disk che ancora non avevamo visto dischetto con a aveva i codici di lancio dell'era sovietica wow dell'era sovietica nucleare bene vedete dalla tele la tele cinesi va bene che ti aiuta a sollevare il materiale e lasciarlo ad una lanciarlo ad una breve distanza però è ok ha è stato rubato da una base militare sovietica perché non si sa dove sia da da agenti che non si sa che nome abbiano con la cia questo si poteva lasciare dischetto che quello che contiene l'abbiamo visto a ecco una volta riportato in america il dischetto ha cominciato a tirare hardware ai membri del del team che stava cercando di decifrare i codici va bene va bene bello bellissimo la hotline cosa fa invece e vabbè quello che è l'abbiamo capito the rotary dial has been replaced ok che non si sa cosa serva qualcosa in mezzo infatti non lo so neanche io l'avevo l'avevo detto il non si può sapere quanto pesa il telefono perché allora va bene l'oggetto è bello che causerà letale ma non si sa cosa letale si si manifesta spontaneamente nell'ufficio del direttore ok però non ho capito sinceramente che abilità mi da a parte quella appunto di parlare con la board mi pare di aver capito direttamente da da qua però non ho non ho ben presente a ok è così wow c'è un sacco di di roba interessante qua i control points ah ma queste sono cose che ci spiega lui è ok questo l'abbiamo capito allora quello che dobbiamo fare per reclamare i control points no è control points perché continuo a sbagliare la cina ok sì questo qua l'avevamo già capito beh direi che molti sono già sotto controllo nemico se io li sto reclamando come miei direi che siamo già un po nella cacca con tutte queste cose no va bene a darling può essere quasi sicuramente va bene no io direi queste qua per adesso non le sentiamo perché non mi sembra il caso questo probabilmente è da sentire perché lo shambio motel perché penso possa tornare utile è un po troppo adesso da da fare tutto insieme vediamo se riusciamo a non è non è cosa stai facendo qua da un'ora e mezza pensavo fossi pop pensa un po' e di là cosa c'è niente o quelle sono ancora lì poverine che si si calmati ragazza un attimo e abbi pazienza adesso adesso ci organizziamo posso parlarti in modo normale senza che tutti agiti è sempre scazzata jesse ed è anche scappato oh dobbiamo andare da salvador adesso e marshall ah quello non si può fare ah come lo faccio funzionare salto volo eh da sola non sapeva niente fino a due secondi fa eh ma c'ho già i superpoteri eh ma no ma non adesso per favore dopo io direi di no jesse eh ah bah non credo che c'hai la voce nella testa ah va bene ahahah io avrei evitato eh però questi qua sono pericolosi quindi devo andare al maintenance maintenance sector ogni tanto si vede ahahah oh mamma è bello grosso sto palazzo eh ma questo è un recap delle cose che abbiamo fatto o stanno facendo dei test su ah qui è ma mi ci avete già mandato ci devo arrivare da sola eh guardate c'è qualcosa da leggere lì sotto ahahah 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 ehm beh dove lo trovo? beh sì lo sapevo che c'erano problemi non avevo dubbi ma non so dove lo trovo però questo posto qui ah oh wow vedo una lotta proprio senza quartiere in questo posto eh sì va bene allora eh ok sì no no ho capito ah nel control point posso cosa? chi? aspetta no ti parlo perché magari devi dirmi qualcosa di importante no e allora perché non mi lasci in pace scusami no non avevo niente da dirti evidentemente invece io penso che ce l'avrei però vediamo ma chi è questo researcher che sta parlando? tu? ma sei tu? vabbè sentite voglio vedere qua che cosa posso fare ah ecco adesso posso fare queste cose qua meravigliose wow eh ah ma i ah ne ho solo quattro di punti e quindi aspettate un attimo ehm ah io vi faccio tutti e quattro no forse lanciare gli oggetti è una cosa che mi rende più esatto ok 25% di danno in più il meleno il meleno lo uso mai quindi lasciamo perdere eh direi questo sì assolutamente e forse anche un altro no ma mi sa che questo me ne servono due poi esatto non ne ho abbastanza no allora teniamocelo per adesso ehm cos'è questo? 10% in più di... ma sì facciamo anche questo qua sì 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 va bene ok nice ehm poi cos'altro posso fare? ehm wow oh oh non so assolutamente cosa sto facendo ma proprio zero però ehm cercherò di capire quindi il devo andare a sto maintenance sector che però non so dove dove posso da dove posso aspetta ehm ehm e non so dov'è vabbè andiamo intanto giù di qua ah ok allora era da qua che dovevo passare non so è cambiato tutto non era così prima eh buonanotte potevo guardarlo prima sì se non cerca di ucciderti magari sì non lo so però adesso mi sta simpatico pony ah il walkman pony sarà un oggetto del potere anche quello può essere se si chiama pony oh mamma sei un po' lungo a caricare tesoro ma mi devo preoccupare che c'è già la pistola in mano eh infatti sì perché ti aspettavo che lo trovassi io io ehm prevedo shagura ma non so ancora quando va bene scendiamo le scale come brave persone perché ho paura di farmi male ma non mi sembra di poter prendere eh di qua di qua è rosso di qua è rosso e non mi piace qua posso aprire no perché sarà un livello 2 cos'è sì infatti va bene io mi porto dietro il bidone mi porto dietro un bidone perché voi mi preoccupate tantissimo ok magari non c'è bisogno adesso però adesso sta là guarda guarda che l'ho lasciato troppo presto questo coso qua mi piace oh questo mi piace guarda no no questo qua vuoi no ma cosa sto facendo ho rotto tutto no ma no 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 che scema che sono dai 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 venite fuori così vi sparo direttamente da qui ok mi scoccia che poi non si rimette da sola dietro no 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 fermo fermo ecco così ci siamo così è meglio così è molto meglio no però dove sei dove sei? qua oh maledetti mi ha buttato un'altra bomba mi ha buttato un'altra bomba mannaggia loro ok no sta buono sta buono sta buono chi c'è d'altro? maledetti infame uh posso reclamare questo posto come mio oh oh wow tè bello bello dai rimetti tutto in ordine così così alla veloce va che bello va eh all'edificio piace cambiare come alle scale di Harry Potter eh di là cosa c'è? ah devo andare per caso a loro dati? veramente? devo proprio andare a trovare lui? beh qua sono a posto non devo più prendere niente di salute quello è chiuso eh sì andiamo di qua allora così poi posso viaggiare partendo da qui Ati sei qui? non c'è niente qua tutta tutta roba uh sì c'è 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 roba oh mannaggia dai ragazzi su eh devo prendere no non non rischiamo per favore vorrei evitare di di farmi male di farmi male ah no 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 non mi spavare ah cosa c'è qua? uh quella muffa di cui parlavano dov'è? dove sei? vieni qua quando potrò quando potrò impossessarmi di voi? eh sarà molto divertente vi farò lavorare per me infami ce n'è uno qua sotto guardalo un po' guardalo un po' adesso mi spara eh sì immaginavo dove siete? vedete ce n'è ancora uno almeno almeno uno c'è uh no son caduta non volevo cadere non volevo cadere assolutamente dov'è? dai ma dove sei finito? ti avevo visto oh la sopra è ma pensa un po' te ok adesso risalgo eh ma sotto magari c'è qualcosa di interessante però c'è niente qua è tutti i livelli che a me sono preclusi e non posso qua cosa c'è? nulla beh ci sono delle scale beh qualcosa c'è dai ok ok di qua vabbè è un altro un altro un altro giro ma sempre qua siamo ok d'accordo allora vorrei prendermi quello che posso se se c'è no non c'è nulla e allora devo andare nel nell'ufficio del del janitor però non so da dove passare perché me lo sono dimenticato ovviamente non so più dov'è non ho mica passare da questa parte perché qua non mi piace per niente la situazione è proprio brutta uh ma ecco bene adesso esplode anche quella non volevo scusatemi oh mamma mia cosa succede da questa parte? non so neanche se è di qua sono cioè vuoi dirmi che non ho visto sto posto qua? ma sono scema ma sono veramente scema eh sì jessi mi dispiace eh me lo chiedo anch'io abbiamo messo un'ora e mezza per venire di qua pensa un po' posso entrare? permesso permesso atti buongiorno ci ho messo un quarto d'ora ma ci sono sono qui ciao e tu sei stato qua mentre io mi facevo ammazzare là fuori sì eh? ok beh ma secondo me lui è più di quello che dice però ne sa un po' troppo dobbiamo fare questa cosa sì certo eh oh cosa devo fare pulirti casa? eh eh sì mi sa cosa dobbiamo pulire? eh non so che lingua che lingua sia cosa sei finlandese mi sa che lui ci darà delle side missions da fare bella bella metafora mica tanto non è che abbia capito proprio benissimo ha visto sì sì è lui che ci dà le missioni secondarie è il re delle delle immagini interessanti ok grazie adesso vado a vedermi qual è ok vado a vedermi qual è la side mission no la mission find a way to fix ok non so ok è probabilmente è qua in mezzo il problema da questa parte immagino dove eravamo prima che cosa significa ah ok vediamo cos'è oh ok un altro potere va bene andiamo andiamo sono contenta se mi da eh però è sempre qua finiamo andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare ah dobbiamo sistemare quell'oggetto del potere lì quello lì è un cavallino andiamo andiamo voglio vedere che potere mi dà vai vai forza con l'imposizione delle mani e cosa abbiamo fatto ah ok ho questo problema qua da risolvere non voglio andare di qua se posso evadere vado e vado ah ho capito ho capito ho capito ho capito no 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 ho capito ho capito benissimo però ho sbagliato il tempi eh tipo guardate come va veloce eh wow no mi sa che me l'ha preso un'altra volta ah ah ok 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 ho capito ho capito nice e quindi adesso faccio così e poi così e volo volo praticamente sto volando ragazzi ve lo dico sto volando e quindi abbiamo già questo bellissimo potere occhio no 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 però non mi far così no 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 nice e qua che devo fare allora può essere che invece li devo solo sparare da qui no eh allora niente ah ok ho capito ok ok ho capito ho capito pensavo di doverli ammazzare invece sono immuni pensa un po' pensa un po' va bene va bene ok ok e che devo continuare ancora ok mi piace tantissimo sta cosa wow wow non vedo nulla non vedo nulla posso andare giù di qua devo morire per forza devo morire o ritorno dove stavo prima datemi buone notizie per favore ok 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 bene bene direi che abbiamo guadagnato un'altra bella mamma mia oh mamma mia come sono felice come sono felice ogni giorno meglio eh vabbè comunque non era qua che dovevo venire lo so o mi cambiano le cose sotto il naso perché può essere anche quello oppure veramente io non so assolutamente come muovermi ah eccolo qua ok devo aggiustare qualcosa qua ma non ho ancora capito cosa ah essenzialmente devo sconfiggere questi stronzi che sono appena arrivati prima di tutto ok l'altro lì e non scappare ah no sta venendo su bene bravo ma non ti agitare così ma come hai agitato ma come sei agitato dove vai ho preso la prima cosa che è capitata sotto mano eh e ti ho fatto male quanto ti sta bene uh ne sono arrivati altri cattivi aspetta che vengo giù perché lì giù c'è più roba no no adesso arrivo aspetta 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 che prendo le scale perché rischio prendere le scale ah non ho più energia giustamente c'hai ragione c'hai ragione ok nooo che errore che errore beh adesso non ho non ho sbagliato adesso mi beccano con una granata perché lo so che succede dove trovo l'altro perché lo so che ce n'è un altro vieni fuori vieni fuori vieni fuori dove è andato forse no può essere che li ho sconfitti tutti mmm va bene adesso cerchiamo di capire cosa devo fare allora è in quel posto dove siamo da dove siamo arrivati sono sicura è infatti appunto ecco no no troppo 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 e si è lnn sc il power plant è di qua ok ok ho capito ho capito ho capito ho capito mi metto un attimo qui vediamo se ho punti da usare nice questa mi piacerebbe perché secondo me mi aiuta molto di più nelle mie nei miei problemi qua posso usare qualcosa no però eh beh lo so però non no me ne servono due e quindi lasciamo stare qua cos'altro ho oh questa la posso fare seriamente ah io la voglio sì no lo so che adesso sono insufficienti però prima c'è vediamo guardate quanto è bella non so se è diversa dall'altra ma mi piace tantissimo ah eccola sì sì eccola è questa che è diversa ma poi diventeranno più belle con l'andare del tempo bene bene sono contenta ok allora una cosa l'ho capita che quando ti metti su questi punti qua salvi indipendentemente da tutto quello che hai fatto e dove sei stata quindi va benissimo questa cosa mi piace adesso devo anche imparare eh che magari sto attenta quando mi danno le missioni perché era chiaro fin dall'inizio che devo venire qui ma ovviamente non era chiaro a me adesso devo andare giù a litigare con la gente è quello che mi hanno chiesto di fare però non so come si va giù come faccio a scendere giù di lì ma proviamo a vedere se no qua non posso andare perché ah no in teoria dovrei poter però non posso quindi come mi state chiedendo di andare da quella parte lì non ho un sì quando l'ho preso quando ho avuto il no mi son persa cose ragazzi mi son persa cose ho un accesso di livello 2 e non lo sapevo va bene vabbè la missione in teoria dovrei saperla però mica tanto ah mi ha dato mi ha dato atti questa cosa ma io non mi ricordo niente va bene fa niente poi leggeremo anche queste cose qua cosa ho fatto sta ferma Jesse per favore ok allora adesso so che posso andare dove devo andare aprirò qua la porta immagino no è una cosa da leggere ah ok ma perché wow sta pistola sta pistola mi piace non so perché mi stanno attaccando non ne ho la più pallida idea però va bene perché credevo di aver risolto qua e invece continuano ad arrivare no non mi piace non mi piace tutto ciò non mi piace per niente ok lì le ho prese perché continuo a prenderle no datemi un po' di salute qua che mi serve via 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 prendi prendi salute non so bene perché mi abbiano attaccato di nuovo eh perché pensavo che qua non fosse più un problema però evidentemente no ciao apriamo questa perché l'altra volta mi sono dimenticata di farlo magari serve a quel eh infatti è di là che devo andare ma ragazzi io cosa devo fare cosa devo fare voglio leggere anche questa che l'altra volta mi sono dimenticata ok no non la attiviamo adesso eh ma adesso no posso aspettare lo faccio dopo adesso voglio andare alla a questo a questo power plant visto che ci ho messo un'ora e mezza per trovarla eh guarda dimmi dimmi tutto sì perché al buio è brutto va bene va bene va bene no l'apro dopo le guardo dopo i collectibles adesso ho c'ho da fare dove? qua? aiuto andiamo giù vero? eh non avevo dubbi d'accordo si aprirà di qua perché l'unico posto dove può aprirsi è questo ok no è stato sbagliato ovviamente ovviamente ti pare allora prendiamo questo qua ok niente non è una dead letter quindi possiamo aspettare a leggerla di qua non c'è nulla cose da prendere che mi piacciono però bisogna vedere quando litigheremo vai ecco adesso oh c'è gente eh ce n'è tanta di gente qua eh devo trovare un posto dove nascondermi ah no ma tu sei amica perché c'hai l'H r a non mi ricordo la sigla eh are you new volevo volevo parlare con qualcuno amico ehm arish arish ah c'era nei collectibles qualcosa su arish aspetta un attimo ehm nella correspondence ecco qua ehm ah è scappato un oggetto del potere un paio di settimane fa ok che cos'è merry go round ma l'ho già l'ho già fatta eh l'ho già già messo tutto a posto ah no no l'ho presa e adesso so volare guardate guardate come so rushare uh questo devo reclamarlo come mio questo posto sì 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 forza così gli altri così gli altri sono tutti contenti quelli che stanno qui intorno mi perdo e non so non so dove andare a cercare la gente per favore qualcuno mi aiuti e mi dica dov'è sto capo della sicurezza e e ci ho messo un attimo a trovarti scusami dimmi devo parlare con te per forza e per continuare il gioco ah ok HRA ve l'ho detto giusto se sei ricordato dopo il nome anche perché non volevo diventare direttrice ma mi ci hanno fatto sì ma scusa scusami no figurati ma non ho capito perché devo risolvere io il problema quando voi lo conoscete meglio di me quindi perché io non ho bisogno dell'HRA per fare sta cosa vabbè eh perché non l'avete fatto fino adesso mi chiedo sì va bene Jesse se lo dici tu è sparito anche lui va bene qua non vi parlate tra di voi eh eh però è mal riposta grazie try to stay alive è bellissimo come si dice come augurio qui non ho niente tu cosa fai qua niente stai facendo ah ecco vedi qualcosa c'è ok allora quindi devo sistemare prima tutta sta roba e poi dopo immagino di security matters beh certo e poi immagino di poter reclamare questo posto come mio ma non ho bene capito cosa devo fare però va bene allora devo trovare le pompe quelle sopra coolant e ehm gli energy converters ok ecco ah ok uh ma voi siete diversi dal solito non mi piacete per niente no fammi scappare non mi piacete per nulla uh wow ok non mi sto coprendo e non va bene voi siete orribili no mamma mia mamma mia no 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 non va bene non va bene per niente non va bene per nulla eh sto morendo come una povera stronza sto morendo di brutto datemi della salute per favore ne ho ammazzati due almeno un po' di salute datemela eh dove sono gli altri wow non so come non so qual è il vostro problema vorrei capirlo perché sarebbe bello oh 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 ah sì e allora seguimi guarda vedrai che che ne vedrai delle belle guarda guarda lì guarda lì c'è una mira che la metà basta ma mi sa che non sto facendo niente eh loro sì io no non si sa perché però è così forza no quello così lo finiamo e la facciamo finita te vi tiro cose addosso che devo fare questa pistola qua non so se è utilissima eh questa qua mi sa che è più precisa l'altra mi lascia un po' così l'amaro in bocca e invece mi piaceva così tanto mi hanno tirato una bomba uh aspetta aspetta no tanto so come passare di là aspetta no che miseria che cretina so come passare di là e poi non 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 mi do la spinta non va bene eh voglio scendere però eh appunto no ho sbagliato questa voglio ok datemi salute qua che mi serve ehm dove dove siete dove siete sto facendo cose a caso ma ce la posso fare giuro ammetto di che sto facendo cose a caso però alla fine ce la posso fare uh wow ok meno male che credo di avere qualche abilità che mi aiuta in questo caso perché veramente sto facendo veramente cose orribili ok di qua di qua di qua che ce n'è tanta di roba da prendere di qua ah qua è dove ho ammazzato prima tutti quelli lì ok non so se ne ho altri da fare vediamo qua cosa c'è perché ovviamente figurati se mi ricordo penso ecco di di avere cose da fare anche qui uh wow no 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 tiro ecco ecco esattamente quello che volevo fare no 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 dove sei lì voglio andare un attimo prendere prendere salute ok mi sa che devo mettere a posto questo è questo il punto del perché sono a ok devo mettere sì sì scusate allora prima faccio questo lavoro qua e poi devo mettere a posto quella quella roba lì che questa devo metterla da qualche parte ma devo trovare i punti giusti e non so quali sono qui dentro c'è roba brutta non voglio vedere qua no sarà interessante trovare i punti giusti dove infilare sta roba perché non non li vedo qua energy qua a ok qua qua ma no ma scusami è con tutto con tutto il posto che c'era proprio lì dove non c'entrava niente ecco o mannaggia adesso devo vedere dove sono gli altri ok sì sì lo so è che me lo devo portare dietro dov'è prendilo no non quello jesse questo qua prende questo e portatelo un po più vicino metterlo qui e adesso andiamo ad ammazzare questi e poi ne parliamo ok no siete tanti pensavo pensavo poste di meno pensavo mannaggia perdete la mira sempre impeccabile dammi la sedia ecco perché con la sedia fai male adesso prendiamo questo qui e aspettiamo l'altro se non c'è qualcuno alle spalle dovremmo poter ok tutta la salute datemela dove l'altro cosa da attivare aspetta che guardo non so dov'è no 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 eh lo so ho sbagliato completamente perché sto no dammi l'altra che questo qua non mi piace tanto ok dammi salute porca miseria che botta ok dammi questo e portiamocelo dietro questi scenderanno dammi altra salute bene ok andiamo su dovrebbe essere da qualche parte qui attorno il l'altro cosa da attivare non vedo da nessuna parte intanto prendiamo cose che possono servire eh no ah è una nuova missione questo ok e poi ci penseremo non so se voglio scendere da qui però proviamo ok fatto credo tanta gente c'è tanta gente quello l'ho fatto l'altro stava arrivando eh spavaldo e allegro stava arrivando l'amico uno shelter che mi fa piacere ah ce ne sono altri qui ah ok non so se perché erano così tanti quelli di prima allora può essere che fosse per ma non c'è rischio di romperli bastava uno solo qua ne hanno messi tanti altri ok adesso dobbiamo solo trovare il posto dove metterli che sarà tipo qua per aprire sta porta qui non lo so intanto dobbiamo ammazzare questo ok perché corro sempre troppo dove da dove mi stai sparando non lo vedo wow tu sei hai le armi pesanti maledetto maledetto adesso ci manca solo che mi ammazzate eh non voglio morire comunque allora di sicuro io rascio come al solito e faccio cose ignobili però mettermi le cose cioè mettermi tutte le capacità che mi son messa ma per adesso aiuta un sacco non credo che sia una cosa impossibile ecco me lo auguro più che altro perché insomma vorrei finirlo questo gioco non so dove ah ecco qua 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 ecco perché te ne mettono tanti perché può essere che tu li tiri e li no no devi lasciarmi questo voglio ok ma mi sa che ne devo mettere anche intorno da altre parti non lo so quello devo metterlo lì sono quasi certo di ciò e cosa fa beh son due adesso manca il terzo allora chissà dove ah no perché quello l'avevo già messo poi sono morta si allora devo no ok aspetta un attimo che vedo se c'è gente di qua da ammazzare uh si c'è porca miseria mi sono proprio esposta è come una deficiente eh lo so aspetta che mi ricarico e poi vengo qua ok quello l'ho messo e allora adesso tocca salire dobbiamo salire di qua eh si decisamente bello non mi tirare non mi tirare bombe però non mi tirare niente dov'è non c'è più nessuno ok possiamo andare d'accordo allora aspetta che vengo a prendermi le capacità uh tu non ti sei fatto vedere fino adesso eh ma pensate che infami che siete dunque dove qua non posso passare però questo serve sicuramente da qualche parte ah qua qua ok 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 ho visto ho visto ho visto qua eh ok eh bene però va bene adesso io passerei di qua per sicurezza per uh dove chi mi ha sparato ma mi ha sparato qualcuno aspetta che vado a guardare qua sopra se c'è qualcosa no non posso passare di qua niente ah ecco ah beh ah beh ma pensa un po' ero convinta di non poter di non poter fare questa cosa eh e continua a sparare qualcuno non so chi vabbè ehm ok aspetta prendiamo cose che prometto poi le giro leggeremo in un futuro prossimo oh mi hanno lanciato bombe perché non me ne sono accorta che c'era questo qua dietro adesso ti lancio cose perché te lo meriti toh eh così ti sta bene dammi queste che mi servono wow porca miseria ehm devo andare non mi ricordo più porca miseria non mi ricordo dove devo andare aspetta ehm non lo so se sto andando nel posto giusto però tanto da qualche parte devo andare ok allora dimmi dove devo andare a questo punto secondo me e innanzitutto litigheremo con qualcuno ma proprio per cominciare e poi vediamo poi magari succede anche altro beh dobbiamo andare di qua perché non so dove sono queste pompe che devo eccole qua di qua mi da anche la freccia quali sono queste pompe da da controllare porca miseria ah allora queste? ah ok adesso si è aperta la porta mamma mia quanto sono deficiente povera Jessie ok 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 qua giusto per non so per trovare qualcosa di interessante poi non è detto però ah efficiency mi piace perché non ce l'ho a questo momento è l'ultima cosa che ho l'efficienza in quel settore ok dai dai fammi aprire sta porta e fammi litigare con la gente oh no no questo non va bene non mi trovo tanto con sta pistola mi piace il design ma è troppo non ce la faccio ad usarla con con saggezza devo per forza aspettare di di trovare l'altra ce n'è una mi pare che sia fatta tipo stella che è pazzesca è meravigliosa ma non è detto che io sappia usare neanche quella però quella lì mi piace di più questo mi ha tirato dietro roba perché continuano a tirarmi dietro roba devo andare a prendere salute no 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 siete tutti simili a tommasi e non mi piacete wow wow ok anche tu ti stai per risvegliare e non mi piaci no no adesso mi ammazzano mi ammazzano perché non vedo niente non so neanche cosa sto facendo ma per favore Jesse ti prego ti prego uh esplodono ecco cosa succede non l'avevo mica capito fino adesso adesso ti tiro questo vediamo se ti piace te no perché tira di ah ma perché non si sposta il bastardo e allora forza cosa devi fare ah con la pistola non ti sposti ma io non lo so pensavo fosse più comodo ma il 2 che ha su è il livello di potenza che ha adesso esplode no perché non sei esploso aspetta che vengo giù perché c'è un sacco di saluti e mi serve mi serve tantissimo e poi se posso anche reclamare questo posto come il mio è ancora meglio posso? ah ecco pensavo di non poter ah no queste sono le pompe ancora ok va bene no di qua cosa c'è? oh wow sì me ne sono accorta che è la camera della fornace e quindi ok adesso di qua ci sono le uff che brutto posto che cosa devo fare da questa parte? non so se sono contenta di andare di qua vabbè andiamo prima a vedere perché adesso devo smettere purtroppo di giocare però vorrei vedere cosa ho sbloccato qualche abilità non ho preso niente neanche un punto tristissimo ma vabbè speravo di sì a questo punto no no non voglio non voglio consumarlo per quello questi ancora non ne ho altri ok eh però hm e questo? no non posso no va bene fa niente fa niente fa niente